Ciao! Ho pensato a lungo dove poter girare questo video e alla fine ho capito che dovevo per forza girarlo qua, dove tutto è cominciato. Ormai sono passati più di sei anni da quando ho cominciato questo mio percorso come maker. Anni non sempre semplicissimi in cui ho sempre dato il mio massimo mettendomi in gioco, ma questa non è la storia che vi voglio raccontare oggi. Oggi vi voglio parlare di questo pacchettino qua e del perché è così importante per me. Questo pacchettino arriva direttamente dal mio nuovo shop. Ebbene sì, me lo avete chiesto in tanti tantissime volte e ora vi annuncio che sono finalmente disponibili le magliette Big Rocket Project. Quindi senza aspettare ancora apriamo il pacco anche perché devo ancora vederle anch'io. Questo è esattamente quello che vi arriverà a casa senza filtri. Ci sono due versioni della maglia sia bianca così che nera. Entrambe sono 100% in cotone quindi non dovrebbero esserci problemi e soprattutto è un'ottima maglia. Si sente la stampa viene perfetta. Questa la provo subito. Mi cazza a pennello direi. Apriamo anche quella nera che ha delle grafiche leggermente diverse adattate per la maglia nera. La grafica dietro è uguale ad entrambe ma la differenza sta nel logo qua. In quella bianca il razzo ha dei colori e in quella nera ha degli altri colori. Bellissimo. Mi piacciono proprio tanto. Con ogni ordine effettuato poi vi arriverà insieme alla maglietta l'adesivo dell'illustrazione che trovate sul retro. Volevo ringraziare inoltre tutti quelli che mi hanno supportato fin dall'inizio del canale. È inutile ribadire che senza di voi tutto questo non esisterebbe affatto. E proprio per te che ogni settimana guardi per primo i miei video ti voglio lasciare un codice sconto di 5 euro per il tuo primo acquisto. Ovviamente in futuro poi usciranno nuovi prodotti e gadget sul sito e se non ti vuoi perdere le promozioni e le nuove uscite ti invito a iscriverti alla newsletter. Per i più appassionati che vogliono supportarmi in questa mia avventura sul sito trovate una pagina per farlo in vari modi. Quello che preferisco io ovviamente è Patreon. Ti invito a buttarci un occhio per capire meglio la figata che ho cercato di organizzare. Mi sembra quindi di aver spiegato tutto. Io vi ringrazio sempre e ci vediamo al prossimo video. Io vi ringrazio sempre e ci vediamo al prossimo video.